Perfetto. Allora direi che possiamo incominciare. Perfetto. Allora direi che possiamo incominciare. Allora... Allora direi che possiamo incominciare. Allora direi che possiamo incominciare. Allora direi che possiamo incominciare. Allora... Allora... Allora direi che... 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 Allora direi... Allora direi che... 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 Allora direi... Allora direi che... Allora direi che... Allora direi che... Allora Penso che Deba sistemare questa cosa qua Sì, penso che puoi scriverla in questo modo Di niente Allora 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 Grazie. 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 Ricordati di bere, ok? È importante. Eccola. E allora... Eccola. 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 Grazie. 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 Stai andando bene. Continua così. Grazie. 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 Registri di lingua. Grazie. 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 No, questi sono quelli di prima. Sì Ok Mi sembra perfetto Ok Va benissimo Ancora dieci minuti ok Poi ci riposiamo Ok 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 Il nostro canale è www.mesmerism.info Ok, ok. Grazie. 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 Ecco. Ogni tempo ci vuole. Forza, l'ultimo sforzo. Abbiamo quasi finito. Forza, l'ultimo. Forza, l'ultimo. E' marti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.